Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, ha informato che nella giornata del 1 luglio in Puglia sono stati registrati 2413 test per l'infezione da coronavirus e non sono risultati casi positivi, non sono stati registrati decessi. A Lucera non si è registrato nessun nuovo contagio. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 180.664 test, 3.873 sono i pazienti guariti e scende a 112 il numero dei casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi covid in Puglia è di 4.530, 1.169 nella provincia di Foggia, un caso è stato eliminato dal database.